Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta tonnata. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono pasta tipo farfalle, tonno sott'olio sgocciolato, capperi, ricotta, prezzemolo, pepe nero, acqua e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la ricotta, il tonno, il prezzemolo, i capperi e il pepe nero. Ed azioniamo il bimbi per 40 secondi a velocità 6. Trasferire la salsa tonnata in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale mettere l'acqua, il sale e portare ad ebollizione per 7 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungere la pasta e cuocere per il tempo indicato sulla confezione che nel nostro caso sono 9 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità 1. La pasta è cotta. Scolarla, trasferirla nella ciotola con la salsa tonnata, mantecare bene e servire. Pasta tonnata! È possibile servirla anche fredda. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!